L'integrazione dei mercati europei è assolutamente essenziale ed è forse la prima priorità assoluta che l'Europa si è data anche ieri l'altro nel summit internazionale in cui hanno partecipato i capi di governo. In questo il gas gioca un ruolo essenziale, l'integrazione dei mercati del gas è prioritaria e l'Italia da tradizionale paese di importazione anche dal nord Europa può giocare un ruolo di interscambio più bidirezionale, può diventare un piccolo hub del gas sud europeo e in questo Snam sicuramente ha un ruolo essenziale, un ruolo che vede protagonista nello sviluppo di infrastrutture, di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione, quindi contiamo molto nella competenza, nelle capacità finanziarie e tecniche di Snam perché questo avvenga per il futuro.